Uno strano gioco del destino, un provvedimento che diventa operativo a far data dal 1 maggio, giorno della festa dei lavoratori. Decorre infatti da oggi la decisione del sostituto procuratore del Tribunale di Trani, Silvia Curione e del GIP Angela Schiralli, che non considerando sufficienti le attività di bonifica compiute dall'azienda Timac, hanno disposto il sequestro senza facoltà d'uso. L'azienda che produce fertilizzanti in via Trani e Barletta chiude i battenti a partire da oggi, e fino al giorno in cui saranno ultimate e considerate adeguate le operazioni di messa in sicurezza dello stabilimento accusato di inquinare il tessuto urbano della città. Un provvedimento necessario, considerato all'inerzia dell'azienda in merito alle ordinanze provinciali numero 3 e 4 del 13 agosto 2015 e del 23 settembre 2015, tese a far bonificare l'area industriale contaminata, bonifica che evidenzia il Presidente del Comitato Operazione Area Pulita BAT, l'Avvocato Michele Cianci non sarebbe mai stata effettuata in questi ultimi due anni. C'era un sequestro con la facoltà d'uso che durava per tre mesi, è stata rinnovata puntualmente per due anni e oggi, dopo che l'Aggiunta del Comune di Barletta ha rogato a sé la possibilità di provvedere alla bonifica, quindi con i soldi dei contribuenti, evidentemente la bonifica come era stato prestabilito non è stata fatta. Oggi c'è una coscienza sociale diversa, c'è gente che è attenta a tutto ciò che si dice e non è, dicendo fandonie o cose non rispondenti al virus, che si può arrogare a sé il potere di fare ciò che si vuole. A presa della notizia, responsabile delle relazioni esterne di Timac, Andrea Camai ora, definisce il provvedimento totalmente incoerente ed evidenzia come l'azienda abbia sempre ottemperato tutto quanto. è stato deciso nelle conferenze di servizi partecipate dagli enti locali e alla luce di un tavolo di confronto tra i tecnici della Procura e quelli dell'azienda per porre rimedio all'inquinamento storico causato dalle precedenti amministrazioni societarie dello stabilimento. Ora Timac conclude Camai ora a fare il possibile per garantire la continuità delle operazioni di messa in sicurezza dell'area ed in merito al provvedimento assunto dalla magistratura, l'azienda è non solo più determinata a far valere le proprie ragioni ma è certa di dimostrare un operato corretto e specchiato. Impegno non considerato sufficiente però dalla Procura della Repubblica di Trani. Se così fosse non avrebbero, diciamo, revocato la facoltà d'uso. Non voglio andare nel merito della questione perché non conosco né Camai ora né la situazione così com'è. Oggi è primo maggio e quindi è una giornata storica per la nazione però devo dire che le dichiarazioni fatte dalla Timac sui dipendenti ci rassegnerano un po' tutti quanti il fatto che si assumano la responsabilità di contribuire con lo stipendio dei dipendenti quindi evidentemente si rendono conto, l'azienda della Normandia si rende conto che non è colpa né dei dipendenti né dei cittadini l'omessa bonifica e quindi si assumono le proprie responsabilità.